Assessore ci siamo, la partita sta per cominciare, insomma è un'emozione per lei, Assessore allo sport del Comune di Cavaillon, avere qui una nazionale. Bravo, hai detto bene, sono molto emozionato perché è un evento che stavamo curando da diversi mesi, è un evento che ha coinvolto tutta la nostra comunità e quindi di questo sono molto contento e oggi vedremo una bella partita. Damiano Tommasi, Nico Penzo, insomma ci sono anche dei campioni del calcio passato, insomma una gran giornata di sport ma non solo. Sì, sport è cuore, quando le persone sono grandi dentro si vede sempre. Senti, il vostro cittadino, insomma Alessandro Pig è una bella eccellenza per voi? Sì, Alessandro è diventato una bandiera, lo stiamo promuovendo bene, speriamo che non si monti la testa e non finisca il grande fratello, poi li ha fatte tutte.